Gira in numero Oh buongiorno caro Questa è bellina Però le sanno provate Rispetto anche alla posce normale Di salita man meno Sai perché ora a me mi arriverà Le Olimpio hanno questo motore Le sanno provate Le vanno bene Le salite la tira meno di Eda lì Che le sono normaline e normaline Oh allora Poi c'è qualcuno Della motocicletta Non targata Ma con questo è un grande discorso Allora E vai E vai Andali fino avanti E vai E vai E vai E vai M1 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 E vai E vai E vai E vai Alla terza partenza E vai E vai Gli elite M1 M2 M1 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 il semester passano ora numero di bianchi numero di bianchi di bianchi e il semester e il semester numero di bianchi numero di bianchi numero di bianchi e bianchi ci può andare? questa è la prima partenza poi prepararti M3, M4 dopo eh prendiamo di qui e tutti i quattro pronti? ma c'è già partenza questa io ci si rivolgo no no è già partenza guarda lì ci vada verso qui dai chi lo manda via? chi lo manda via? chi lo manda via? chi lo manda via? mandala via stamattina c'è da chiudere la fia chi è che dice mandala via stamattina io io sono te allora non è fregato ahahahah ma qui ci mettoni vediamo le cose e via e via di loro c'è più scelto qui ci mettono qui ci mettono ma che luci accese a vedere ma che vuole andare? gli effitto gli effitto gli posto eh ma ce lo stanno E' anche belli i percorsi asciutti. E' anche qui. 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 E anche qui. E' anche qui. E anche qui. E' anche qui. E' anche qui. E anche qui. E anche qui. E anche qui. E' anche qui. E anche qui. E anche qui. e qui. e qui. E anche 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 qui.